E ben ritrovati in studio per questa seconda parte. Come anticipato, torniamo ad occuparci del raggiro che, come abbiamo già denunciato ieri, si nasconde dietro la raccolta di abiti usati. Stamane abbiamo intervistato il segretario dell'Ordine dei Gesuiti di Ragusa, che per primo ha denunciato questa presunta truffa. Nessuna parrocchia Sacro Cuore ha promosso la raccolta di abiti usati, scarpe, borse, coperte, lenzuola Ragusa e nelle altre città della provincia. Come invece si legge nei volantini distribuiti in giro o affissi sui portoni, sui pali della luce e sulle cabine telefoniche. Si tratta di un raggiro ai danni di ignari cittadini che, pensando di far del bene, mossi dallo spirito di carità e solidarietà, regalano i loro indumenti. Non si sa però ad oggi chi gestisca questa attività, così come non è chiaro quale sia lo scopo preciso della raccolta. La paura è infatti che gli abiti usati vengano rivenduti nei mercatini rionale o nelle bancarelle. Nessuna parrocchia Sacro Cuore della provincia avrebbe autorizzato questa iniziativa. Ad accorgersi che qualcosa non andava, sono stati i gesuiti di Ragusa. Da qualche tempo a questa parte, nella nostra parrocchia e non solo, abbiamo scoperto che copre anche Ragusa, tutta Ragusa, c'è in atto una fantomatica raccolta di abiti a nome di una ipotetica parrocchia Sacro Cuore. È stato nostro interesse informarci, non essendo noi direttamente interessati, se la cosa fosse partita da altre parrocchie della diocesi di Ragusa, addirittura fino ad arrivare a Modica, che fa parte della diocesi di Noto, e quindi informarci se qualcuno aveva organizzato, dato in carico a qualcuno di organizzare tale raccolta. La cosa ha portato a scoprire che praticamente nessuno ha organizzato o dato in carico a qualcuno di fare tale raccolta, e quindi la cosa ci è sembrato un pochino dubbia. Tra l'altro, chiamando sul numero di telefono che compare nel bigliettino, chi ha risposto ha menzionato la parrocchia di Modica come promotrice di questa iniziativa. La parrocchia di Modica ha smentito tranquillamente, quindi da questo ci siamo insospettiti sul fatto che la cosa fosse poco lecita. Invitiamo tutti i nostri parrocchiani e tutti quelli che sono in ascolto, giustamente, di non assecondare, o comunque sappiate che non vanno per gli scopi previsti nel volantino. Attenzione dunque a chi date i vostri abiti o oggetti usati. Il consiglio è di telefonare prima in parrocchia per accertare che si tratti di una raccolta autorizzata. rivolgiamo inoltre un appello alle forze dell'ordine affinché intervengano per chiarire una volta per tutte chi e che cosa si cela dietro questi fantomatici volantini. E torniamo ad occuparci adesso della sagra della Frittella che ha da poco chiuso i battenti a Ragusa. Una edizione particolare, quella di quest'anno, partita con il piede sbagliato e conclusa nel totale obbligo mediatico. Ah, 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 cercasi Frittella a Ragusa. Chi le ha viste? Che che se ne dica, infatti, al di là degli sforzi compiuti dagli addetti stampa nel pubblicizzare l'evento, quest'anno la sagra della Frittella a Ragusa è assolutamente passata in sordina. E visto che il buongiorno si vede dal mattino, c'era da aspettarselo. Già prima di iniziare, infatti, la quattordicesima edizione della festa estate di San Martino aveva avuto i suoi grattacapi. Il comune ha per la prima volta quest'anno dapprima dimezzato i contributi e poi totalmente azzerato. Niente ossigeno verde per i responsabili dell'associazione Marianina Coffa, promotrice dell'iniziativa, che sono letteralmente balzati sulle sedie. Che poi, con tutti i soldi percepiti negli anni passati, quest'anno potevano tranquillamente permettersi di fare l'edizione senza contributi pubblici. In sei anni, dal 2006 al 2011, infatti, l'associazione ha percepito dal comune 77.000 euro di contributi per fare le Frittelle. Ma queste 77.000 euro devono aggiungersi i proventi che l'associazione ha ottenuto dalla vendita delle suddette Frittelle. Già perché i ragusani, che pagando le tasse hanno contribuito alla sagra tramite finanziamento comunale, lo hanno fatto anche direttamente di tasca propria, comprando le Frittelle, insomma, beffati due volte in un sol colpo. Dicevamo dunque che con le cifre recuperate negli anni, soldi pubblici, ma l'associazione ha percepito anche aiuti privati da vari sponsor. Immaginate che in Troiti, sempre per fare le Frittelle, quest'anno non c'era proprio bisogno di piagnisteie e di lamentele varie, ma lamentarsi, dicevano gli antichi, è capitale. Insomma, recuperati i soldi, la sagra è partita. Peccato che ad accorgersene siano stati solamente quelli dell'associazione residenti del quartiere. Nessun altro ne ha parlato. Come mai? Dove è andato a finire il clamore mediatico degli altri anni? Allora è proprio vero, senza soldi non si canta messa. Ci spostiamo adesso a Comiso, dove attualmente si sta svolgendo il Consiglio Comunale. Vari punti all'ordine del giorno tra mozioni e interrogazioni. Si parlerà anche di tariffe IMU e dell'esenzione della Tarso per i garage e i solai. Torna a riunirsi oggi il Consiglio Comunale di Comiso. La seduta avrà inizio alle 18. Diversi punti all'ordine del giorno tra mozioni e interrogazioni. Si inizia con una mozione di indirizzo presentata dai consiglieri comunali Fabio Fianchino, Daniele Montevergine e Salvatore Cavalieri, avente per oggetto l'esenzione, secondo quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, della Tarso per i garage a uso privato, cantine e solai, in applicazione della Circolare Ministeriale del 22 giugno del 1994. Il punto è stato presentato già circa quattro mesi fa, ma non è stato affrontato. Ed ancora si parlerà del fenomeno del randagismo e dell'affidamento temporaneo della gestione del campetto di pedalino all'Associazione Sportiva e Culturale La Zagara. Mozioni presentate dal gruppo del PD. La lista La Torre ha presentato invece un'interrogazione a proposito della richiesta del parere Arta in merito all'assegnazione di aree per la costruzione di alloggi da parte di cooperative e imprese ammesse a finanziamento regionale. Tra gli ultimi punti è stato inserito anche l'approvazione del regolamento Imo e la determinazione delle aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale per l'anno 2012. Ci spostiamo adesso a Vittoria, dove si è dimesso il presidente della Vittoria Mercati SRL, Filippo Tutto Bene. Il vertice del CDA della Società di Gestione della Struttura Mercatale non ha ricevuto il nulla osta dell'azienda pubblica per la quale lavora. Si è dimesso a Vittoria il presidente della Vittoria Mercati SRL, Filippo Tutto Bene. Tutto Bene tre mesi fa era stato nominato al vertice della Società di Gestione del Mercato Ortofrutticolo di Contrada Fanello, al posto del dimissionario Salvatore Garofalo, che aveva lasciato a sua volta dopo l'uscita dalla maggioranza del suo partito, SEL. Tutto Bene si è dovuto dimettere invece perché l'azienda per la quale lavora, l'ASP, non ha concesso il nulla osta. L'esponente del PD aveva accettato l'incarico affidato agli dal sindaco Giuseppe Nicosia con riserva. Adesso, dunque, il CDA della Vittoria Mercati, orfano sia di Garofalo sia di Tutto Bene, deve essere nominato nuovamente visto che è dei tre componenti, è rimasto solo il funzionario comunale Giuseppe Sussenti. Parole di amarezza arrivano dalla segreteria del PD. Il Partito Democratico di Vittoria, si legge nella nota, resta fortemente sbalordito e dolorato per le annunciate dimissioni costrette del presidente della Vittoria Mercati, Nuccio Tutto Bene. La tegola delle dimissioni arriva nel momento in cui il PD aveva appena gustato i primi segnali di reale attività della Vittoria Mercati, grazie al serio impegno dello stesso presidente e del direttore Sussenti per la struttura mercatale. E domani, giornata di sciopero in provincia di Ragusa, la CGL a livello nazionale ha proclamato una giornata di mobilitazione. Nel capoluogo il presidio è previsto a partire dalle ore 9, incontrata selvaggio nella zona del mercato settimanale. Sciopero generale domani a Ragusa. La CGL ha proclamato a livello nazionale uno sciopero di 4 ore dalle 9 alle 13. La stensione dal lavoro, che si avvale del sostegno della Confederazione Europea dei Sindacati, si svolgerà anche nel territorio ebleo. In provincia di Ragusa è stato organizzato un presidio incontrato selvaggio di fronte allo stadio comunale aria del mercato in presittimanale. Alla base della protesta, che si svolgerà in molte città italiane, il rifiuto allo smantellamento della protezione sociale, all'aumento della flessibilità del mercato del lavoro, alla privatizzazione dei servizi pubblici, alla pressione al ribasso sui salari e alla diminuzione delle pensioni. La CGL propone invece una governance economica a servizio della crescita sostenibile e occupazione di qualità, giustizia economica e sociale attraverso politiche di redistribuzione, tassazione e protezione sociale, una garanzia occupazionale per i giovani, l'intensificazione della lotta contro il dumping sociale e salariale, l'effettiva applicazione di una tassa sulle transazioni finanziarie per combattere la speculazione e agevolare così politiche di investimento, infine uno sforzo determinato per combattere l'evasione e la frode fiscale. La CGL di Ragusa invita i lavoratori, giovani, studenti e pensionati a partecipare allo sciopero generale di domani. E al via a Ragusa la campagna di informazione Io non voglio il falso. Si tratta di un progetto che vede in campo la di Consum insieme alla Guardia di Finanza per la lotta alla contraffazione. Al via a Ragusa il progetto Io non voglio il falso. Il mercato della contraffazione toglie 110.000 posti di lavoro, produce evasione fiscale per 1,7 miliardi di euro, riduce dello 0,35% il prodotto interno lordo. La contraffazione è quindi un fenomeno che va combattuto e contrastato. Per questo motivo a Di Consum ha avviato in tutta Italia un progetto sul tema della lotta alla contraffazione per rendere i cittadini più responsabili e consapevoli rispetto alle illegalità e ai rischi connessi all'acquisto di prodotti contraffatti, soprattutto in tema di salute e sicurezza nei settori alimentari, tessire, cosmetico e dei giocattoli. Il progetto prevede la realizzazione di una campagna informativa e formativa rivolta e accessibile a tutte le categorie di cittadini con particolare riguardo ai soggetti più deboli come i giovani, casalinghe e pensionati. I prodotti contraffatti non rispettano le norme per la nostra sicurezza, mettono in pericolo la nostra salute, favoriscono la criminalità e danneggiano l'economia. Il giorno 17 novembre si terrà presso la scuola media Vannanto di Ragusa alle 12 una conferenza dal titolo Io non voglio il falso, interverranno tra gli altri il presidente adiconsum di Ragusa Gianni Cerruti e il comandante provinciale della Guardia di Finanza il colonnello Francesco Fallica. Il giorno 23 novembre invece presso il centro commerciale Le Masserie sarà distribuito del materiale informativo per sensibilizzare il consumatore sul fenomeno della contraffazione nei vari settori. Bene, questo era il nostro ultimo servizio per questa edizione è tutto, vi ricordo che potete seguirci pure sul nostro sito www.fritvalline1.it Vi auguro un buon proseguimento di serata.